E ora invece diamo il bentornato a Veronica Marchi, ciao! Ciao, ciao a tutti! Ciao, buonasera e appunto bentornata a questo Radio Beat Music, come stai? Grazie, bene, tutto bene, caldo ma bene. Ti capisco, Capita è appunto il tuo nuovo singolo. Esatto, esattamente, ed è appena uscito e sono contenta, insomma è un lavoro che è da un po' che deve uscire, ma comunque, insomma, ci ha voluto il suo tempo come al solito per tutte le cose a cui teniamo di più, insomma, quindi finalmente però è uscito. E com'è nato appunto questo singolo? Ma allora, io in questi anni, dal terzo disco in poi, ho scritto molto, ho lavorato, ho fatto cose diverse, però come sempre succede, per mettere a fuoco un disco nuovo ci vogliono degli elementi, magari che non sono quelli che hai raccolto negli anni, no? e quindi c'è stato un ragionamento fatto l'anno scorso insieme a alcune persone con cui lavoro e poi anche un ragionamento con me stessa, pensando un po' a quello che avrei voluto comunicare di nuovo rispetto alle cose che ho fatto fino ad oggi e Capita quindi è uscito, è stato il primo brano che ho scritto rispetto a tutti i brani che sono nell'album perché fa significare proprio un ponte tra quello che sono stata e quello che vorrei diventare quindi è sempre più libera, sempre più diretta anche nel linguaggio quindi, ecco, quindi Capita rappresenta questo, un passaggio, diciamo, da una cosa a un'altra e appunto l'album si intitolerà Non sono l'unica esatto, e lì c'è tutto un concetto anche di unione con persone perché come ti raccontavo questa canzone, questo disco è stato pensato anche da più persone per la prima volta tra l'altro ho un produttore artistico, cose che non ho mai avuto quindi comunque è un'apertura Non sono l'unica, significa anche questo, insomma il fatto di lavorare con gli altri e di cercare, insomma, di collaborare, di aprirsi E per il momento invece Capita dove si può trovare o acquistare? Adesso Capita è su tutti i portali digitali, quindi iTunes ma poi si può sentire anche su Spotify, su Apple Music, insomma, quindi è dappertutto in questo momento in digitale è ovunque e dal vivo ovviamente che è la dimensione migliore per sentirlo, secondo me nelle poche date estive, ma comunque poi partirà l'altura a settembre quindi, insomma, ecco, si può sentire in molti modi diversi Dura appunto che si potrà seguire anche tramite le tue pagine social per sapere le informazioni Esatto, sia Facebook che Instagram dove c'è un aggiornamento date continuo in questo momento la prossima data è ad Alboe un festival a Susano venerdì e poi avanti sono stati alcuni appuntamenti e poi, insomma, dicevo, da settembre parte il vero tour E per il momento invece ti ringrazio ma visto che adesso appunto ci ascoltiamo Capita ti va di farci proprio tu il lancio radiofonico conclusivo? Sì, va bene Ho un po' impressione, però lo posso fare Allora vi invito all'ascolto di questo mio nuovo singolo Si chiama Capita e sono Veronica Marchi e vi ringrazio tantissimo